Tavoli distanti al menù metro, personale sempre con la mascherina e menù digitali o in stampa plastificata. Nel calendario delle riaperture che caratterizzano il mese di maggio, i bar e i ristoranti saranno i primi a riaprire, a pranzo e a cena, ma si conferma il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. Le nuove norme che si applicano ad ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande contengono tutte le regole per garantire la sicurezza, evitare assembramenti, distanziamento, privilegiare l'accesso tramite prenotazione e mantenere l'elenco dei clienti per un periodo di 14 giorni. Anche a Fano gli imprenditori sono al lavoro per sistemare i locali tra ottimismo e perplessità, in particolare sulle condizioni meteo, infatti c'è chi come Filippo Ravagli ha deciso di attendere qualche giorno in più e di riaprire l'attività il 28 o addirittura il 30 aprile. Quanti clienti potete accogliere? Ho tutti i tavoli da 4 se sono famiglie o se sono amici, sono distanziati almeno di un metro e mezzo, un metro e venti, un metro e trenta nel loro raggio d'azione e posso far star fuori sono 48-56 persone, dipende se sono tavoli singoli o tavoli da 4. Ma questa cosa solo dell'esterno è un bel problema perché io compro, ho ripronotati, chiamo il personale per fare un weekend tipo questo che si sta per aprire del primo di maggio, ma qui se mi fa tempo cattivo, mi fa un colpo di vento oppure fa due gocce di pioggia, io devo disdire tutto. Se io ho un'urgenza, quel giorno mi piove, il minimo posso portarli dentro oppure ciao e arrivederci. Non tutti però potranno ripartire da lunedì, infatti chi non ha gli spazi all'aperto è costretto ad attendere il primo giugno quando sarà permesso il servizio anche al chiuso nella fascia dalle 5 alle ore 18, un duro colpo per chi tiene aperta l'attività soltanto nei mesi invernali. Noi non avendo posti all'aperto rimarremo chiusi, noi siamo a tutti gli effetti un locale stagionale, stagionale, invernale, in quanto apriamo i primi di settembre e chiudiamo a fine maggio, non avendo appunto posti all'aperto come ripeto e io mi ero già attrezzato dei primi di settembre come vedete con questi pannelli in plexiglass poco invasivi ma molto efficaci e avevamo avuto anche un bel riscontro da parte della nostra clientela che insomma aveva apprezzato molto però a quanto pare sono serviti molto poco perché in effetti di nove mesi che siamo aperti abbiamo lavorato soltanto 5 settimane piene e poi gli altri periodi dove abbiamo potuto lavorare solo a pranzo. Vi sentite un po' discriminati in questo senso? Discriminati, il problema fondamentale dal mio punto di vista è che per l'ennesima volta sono state prese delle decisioni da persone che comunque non conoscono il nostro settore, sono nate tante associazioni sia qui da noi a Fano come Ristori Italia che conoscerete sicuramente ma in tutta Italia. Io credo che sia giunto il momento che esponenti di queste associazioni che sono a tutti gli effetti cuochi, camerieri, baristi, ristoratori vadano a parlare cioè siano ammessi anche loro nei tavoli dove si prendono le decisioni su come riaprire perché altrimenti queste discriminazioni come dice lei o comunque questi lavori fatti un po' con i piedi non ci saranno mai, non ne usciremo mai.